100 euro di multa per il possesso di un pugnale e assoluzione con formula piena per l'arsenale da guerra che aveva in casa e la sendenza pronunciata dal collegio del tribunale di Sulmona per serudere al giudice per Filippo Mazza Greco a carico di IGT, 75 anni di Opi, trovato in possesso di armi e munizioni da guerra, un mini arsenale ereditato da nonno che i carabinieri della compagnia di Castellisangolo avevano scoperto nella sua abitazione. I fatti risalgono al 2022 quando, nel corso della perquisizione domiciliare, i militari avevano trovato e sequestrato un fucile da caccia che si presentava scomposto, 550 munizioni da guerra, proiettili per mitragliatore, 90 cartucce a palettoni, 130 munizioni calibro 22, tagliole per caccia di frodo, pugnali di grosse dimensioni, una fioscina da sub e un fucile da caccia privo di matricola per la catalogazione. Tutto ereditarlo dal nonno come documentato, essendo le munizioni risalenti al 1915 e come aveva riferito il 75enne al giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'anziano infatti era stato arrestato poi rimesso in libertà con obbligo di firma. Nel corso del processo il suo avvocato Massimo Di Roccolo e fuori di Chieti ha ottenuto una perizia sul fucile. L'arma è venuto fuori nel corso dell'esame, aveva la canna completamente ossidata e non poteva essere messa in funzione. Così come tutto il corredo da guerra, altro non era che un'eredità datata e innocua. L'anziano ha quindi incassato l'assoluzione per tutti i capi di imputazione. La condanna soft a 100 euro di multa è arrivata per la sola detenzione del pugnale. La pena resterà sospesa.